e benvenuti da Wilcon eccolo qua un posto enorme ciao ragazzi sono da Wilcon questo è tipo la l'Erua Merlin d'Italia e però versione filippina qui si possono trovare tutte le cose che sono nelle case dei filippini che sicuramente in italia adesso andiamo a esplorare un po' il posto bene iniziamo per far vedere un po' le piastrelle però salterai questo reparto qui più cose sulla costruzione come piastrelle e poi tavoli e letti ecco come questo bellissimo divano ma la parte più interessante è da quella parte che dopo ci vado se ne andrò questo è per il salotto sono divani via ci sono tutte piastrelle adesso per entrare in negozio c'è ancora bisogno della freefield ma poi la posso alzare e andare così tranquillamente basta che ho la mascherina è importantissima vedete ecco mia moglie mi fa fermare sempre in questo reparto perché gli piacciono le sedie e i divanetti per il ristorante mi piace questo set che costa 8000 peso solo il tavolo questo è un set unico tutto costa 8000 questo è per outdoor si si circa 146 euro ecco qua questo per disinfettare l'alcol eh lo riempi di acqua e alcol e lo spruzzi questo si usa molto nei ristoranti dopo che il ristorante chiude si spruzza quello e amatta tutto il virus tutti i virus queste cose qua insomma adesso andiamo verso di là che ci sono cose più più per la casa un po' più carino mi piace di più con il reparto ecco qua le lampadine volevi queste no? si e vuole due lampadine buy one take one quindi ne puoi compri una e te ne danno due 20 euro ecco le cisterne enorme per per tenere l'acqua queste sono dei dei pressure questi danno la pressione per fare entrare l'acqua nel nelle case nelle case vendono vanno molto questi in ogni casa ce n'è uno quasi tutte le case per chi chi riesce a comprarselo perché alla fine hanno dei prezzi abbastanza alti tipo questo dovrebbe costare sui 20.400 euro e niente perché le case se non hanno questo non hanno l'acqua 24 ore si fanno per poche ore durante il giorno quello serve che si riempie l'acqua nelle poche ore che c'è si riempi quello poi te la da tutto il giorno così tutto il giorno hai l'acqua invece qua abbiamo dei tavoli qua abbiamo delle bellissime lampadine qua dove ho comprato anche io le le i lampadari per per il mio ristorante anche questi qua li ho comprato l'ultima volta questo qua comprerò ancora anche a sto giro lo prendiamo questo qua prendiamo bye bye one take one no no magari lei è sempre quella che compra ma proseguiamo per questa strada quali sono dei semplici frigor per le attività magari se qualcuno interessa il prezzo tocca questo qua viene 21.000 peso un frigor così un frigor da bar con la vetrina 21.000 peso sono ma diciamo sui 400 euro 400 euro si 400 euro poi qua microondi forse sono più belle in italia questi microondi qua sono un po vecchiotti mi sembra poi in tutti i negozi c'è la rice cooker qua perché tutti quanti i filippini cuociono il pasto principale è il riso bianco questo lo cuoce come è tipo un bollitore automatico metti il riso l'acqua schiacci questo bottone e si cuoce automaticamente quando sale il riso è pronto poi cosa succede anche qui nelle case dei filippini cosa c'è questo qui questi questi fornelli qua che funzionano con la bombola del gas quindi uno prende la bombola del gas in casa e attacca questi fornelli perché non hanno le caldaie nelle filippine qua non c'hanno le caldaie non hanno l'impianto gas e almeno nella periferia magari in città se vai a manilla forse sono più organizzati ma qua fuori in ogni casa usano questo anch'io al ristorante uso questi qua un po' più grande per due e abbiamo questo qua queste sono delle cappe vedi questo qua è doppio 3300 peso 60 sono sui 70 euro questo molto carino adesso lo prenderei anch'io comunque a fiamma blu e consuma poco gas si poi cos'altro si trova ah vedi queste qua sono i classici fornelli da installare come i nostri se hai una bombola un po' più grande di solito qua si usano le bombole piccoline le bombole un po' piccole ecco andiamo a vedere qua ecco anche questi sono dei motori che portano le classiche motori che danno la spinta all'acqua per andare nelle case poi andiamo di qua abbiamo degli espiratori molto grandi impianti di espirazione ventole eccole qua per mandare via i bruci d'ori dalla casa o dalla cucina abbiamo altre lampade poi abbiamo l'erbetta finta che mi piace un sacco questa qui la prenderei tutta se potessi però costicchia anche questo mi sembra mille peso al metro più di 20 euro al metro eh 1300 più di 1020 euro ma rami comunque qua le strutture i centri commerciali sono sempre enormi cioè sono proprio infiniti vediamo un po' il reparto giardinaggio qui cosa abbiamo le forbici vabbè queste sono cose un po' così vediamo sempre lo zaino per disinfettare abbiamo una bella tosa erba bellissima ecco il reparto rubinetti ad esempio questo costa 60 euro rubinetto ma stai scherzando troppa roba 60 euro rubinetto ecco queste qua sono le famose caldaie e sono molto piccole perché nelle Filippine non esiste la caldaia o almeno dalle nostre parti e quindi se vuoi avere una doccia calda devi installare questo marchingegno qui di fianco alla doccia quando passare l'acqua l'acqua dentro mi pare e poi selezioni la la temperatura e poi ti esce l'acqua calda e hai l'acqua calda solo così puoi avere l'acqua calda quando nelle Filippine non è automatico non è automatico io faccio la doccia con l'acqua fredda e con il secchio ancora il secchio perché sono all'antica sono all'antica ecco qui abbiamo degli arnamenti carini per la per la casa come qui Babbo Natale non lo prendo troppo grande non riesco qua una mucca lunghissima molto bella e poi tutte queste cose ecco qui un pozzo un pozzo finto questo costa 200 peso molto carino 200 euro sorry 8000 peso molto carino si mette l'acqua dentro non si riesce a vedere nel fondo facciamo un giro queste parti un reparto altissimo un reparto cornici un reparto porto un reparto porte ok diretto finito da Wilcon abbiamo comprato solo delle lampade usa e getta durano 5 anni poi le devi buttare bellissime 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 le attacchi con la corrente sempre col tasto sono lampade grandi e dopo ve le faccio vedere sono in cassa e tu schiacci i bottoni però la lampadina è usa e getta quindi dopo 5 anni devi prendere tutto e buttare costa 20 euro 18 euro ok una nuova esperienza con le lampadine ecco qua le lampade le lampade usa e getta garanzia per un anno sono grandissime queste le metti in alto e durano 5 anni ragazzi grazie grazie Grazie.